Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. E ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la mitica Ford Gran Torino di Starsky e Hacce. Un modello in scala 1 a 8, edizione a 7, uscita numero 59. Vi avevo detto nel video precedente che ci saremmo visti per il montaggio dei numeri successivi, 58, 59, 60, però mi sono ricordato che per quell'errore che Hacce ha fatto, vi ricordate che hanno fatto un po' di pasticci, ma può succedere, vi avevo già fatto il montaggio nel numero 58 circa un mese fa, non me lo ricordavo, e non mi è sembrato proprio il caso di farvelo un'altra volta, non voglio perdere gli iscritti. Ecco, quindi andiamo e procediamo con l'uscita numero 59. Intanto, mentre vi faccio vedere... Anzi no! Michele è un po' stordito oggi. Non vi faccio vedere nulla, perché chi volesse andare a dare un'occhiata all'interno del fascicolo, lo potrà fare guardando il video unboxing, dove ho dedicato più tempo proprio per permettere a chiunque lo desidera, di dare lettura, oltre che guardare le immagini, di poterlo quindi fare. Andiamo subito a vedere quello che ho ricevuto, ma non prima di aver ringraziato tutti i miei iscritti, grazie a tutti di cuore. Sto arrivando a un milione di visualizzazioni totali e alle persone che mi guardano non si iscrivono. Ragazzi, ricordatevi che l'iscrizione è gratuita. Se avete piacere iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. Infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Questi sono due pezzi in plastica. Il telaio dello schienale sinistro, che è questo qui. Questo sto leggendo. Il dorso dello schienale sinistro. Due serie di viti. Ecco qui, QP e TP. Sono tutte e due da avvitare nella plastica. Non usate nessun tipo di lubrificante per crearvi filetti. Anche se qui, avendo già montato il sedile, quello più lungo, sempre anteriore, ricordo che la plastica è molto tenera e mi sembra che non necessita di fare appunto l'azione di crearsi il filetto. Lo vediamo comunque. Poi ho questo qua, invece, l'imbottitura dello schienale. e questo è in gomma e della seduta. Ecco qui. No, questo è lo schienale della seduta anteriore. La parte della schiena. Bene. Bisogna prendere il sedile anteriore che ho montato nell'uscita numero 57. Eccolo qui. Due viti TP. Beh, però vediamo se è il caso. Provo a avvitarne una e vi dico se è il caso di crearsi filetti o no. No. Assolutamente no. anche perché non è qui che avvita forse è qui, vediamo. No. Comunque ecco. Direi assolutamente di non fare nulla di questo genere. Non serve crearsi nessun filetto. Quindi metto questo così. e avvito la vite TP. Ricordatevi senza avvitarne le puntate poi stringete tutto alla fine. che meraviglia. e avvito la vite che per la vite stringetele un po' di più affinché possa rimanere semiligido che mantenga la posizione che volete voi ecco anche se non ci dobbiamo giocare così va benissimo poi prendiamo l'imbottitura che non va messa qui dove lo stavo mettendo io adesso ma va messa qui così non vi sbagliate perché sembra uguale la spugna ma uguale non è questa è la parte che va sopra così anche se poi se doveste sbagliare però vedete guardate la curvatura qui e guardate questa che è più accentuata questa va messa così ok bene non ci rimane che fare questo aspettate un attimo è perché sto guardando una cosa rido perché cercavo di metterlo così ma che senso avrebbe avuto metterlo così no mi ha tradito questa linea qua questo ovviamente va messo così comunque allora bisogna far passare queste linguette qua in gomma qua sopra in mezzo a questi intagli qui quindi così i due fori poi per mettere appoggiatesta vanno messi verso l'alto ovviamente calzo così ecco qua mi raccomando i fori della parte in gomma devono combaciare perfettamente con quelli sotto in plastica e con i perni forati mi raccomando che bella che bella sta vista così ok poi prendiamo qp4 alla fine restate con me perché prendo tutto quello che ho montato fino all'uscito numero 59 e poi ci salutiamo e fissiamo la copertura in gomma sullo schienale di plastica ok ok posso stringere quando arrivate contro fermatevi senza continuare a stringere perché non serve a nulla questo non andrà mai da nessuna parte ecco qui alla fine ci avanza questo pezzo che dovremmo metterlo poi nel montaggio successivo quando andremo a inserire il poggiatesta e questa sarà la sua copertura definitiva bellissimo eccoci di nuovo insieme questo è quello che ho montato fino all'uscita numero 59 di questa riproduzione meravigliosa di questa macchina mitica qui abbiamo anche i tappetini e poi dovrò andare a collocare con il biadesivo quindi quelli posteriori non lo so se li incollerò quelli anteriori sono costretto perché non rimangono in questa posizione quelli posteriori facilmente li lascerò così come quelli della macchina vera quindi amovibili bene ragazzi io vi abbraccio vi ringrazio del vostro tempo un saluto anche ai vostri cari più cari adesso vado a preparare il video numero 60 poi andrò a preparare il video numero 64 della Lancia Stratos Livrea all'Italia numero 10 vincitrice del rally di Monte Carlo del 1976 con il pilota Sandro Silvio chiedo scusa Sandro Munari e il suo copilota navigatore Silvio Maiga una macchina stupenda e poi andrò anche a fare il video numero 14 dell'Audi 4 vincitrice del rally di Monte Carlo del 1984 con il pilota Walter Rohl e il suo copilota Christian bene mi raccomando seguitemi iscrivetevi al canale e attivate la campanella sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato mi raccomando aiutate Michele a crescere perché è una cosa buona e giusta ci mancherebbe sempre che ne abbiate piacere buona giornata a tutti ciao 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 Grazie.